Giovanna Romano, un libro pensato per i bambini sulla festa dei quattro altari, come nasce quest'idea? Allora, quest'idea nasce da un percorso di formazione per l'emissione e il ruolo di quest'anno. E come unità didattica ho scelto la tematica la festa dei quattro altari. E qui devo ringraziare il nostro sindaco perché mi ha dato l'opportunità di poter raccontare, parlare ai bambini di questa festa, poiché sono quasi più di 16 anni che questa festa è stata soppressa. E quindi la nuova generazione non ha avuto modo di conoscerla. E quindi quale luogo migliore, se non dalla scuola, raccontare questa bellissima festa, che è una festa particolare perché la tradizione, io penso che sia l'identità della nostra città di Torre del Greco, perché è una festa di arte sacra, è una festa culturale, è la nostra tradizione. E quindi è giusto che i bambini, la nuova generazione, la conoscono.